Grande fratello. Alfonso Signorini emozionato. La Gieffina si è sposata ieri in gran segreto. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Una festa a sorpresa ha segnato un momento indimenticabile per la Gieffina. Nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a un reality show del Grande Fratello. La celebrità TV ha recentemente celebrato il suo matrimonio, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Le immagini dell'evento hanno rapidamente fatto il giro della rete, catturando l'attenzione del pubblico. La loro storia è stata caratterizzata da alti e bassi. La coppia aveva vissuto momenti difficili. Tanto da allontanarsi temporaneamente, poiché il loro rapporto sembrava giunto al capolinea. Tuttavia, contro ogni aspettativa, sono riusciti a ritrovarsi e hanno deciso di celebrare il loro amore con un matrimonio, sorprendendo tutti. Heidi Baci, dopo la sua esperienza nel Grande Fratello Italiano, aveva deciso di partecipare a un'altra trasmissione all'estero. È proprio in questo contesto che si è svolto il matrimonio con Romeo Vesciai, conosciuto proprio in ambito televisivo. La notizia è stata annunciata ufficialmente sul profilo social di Big Brother VIP 3. Heidi Baci e Romeo Vesciai si sono sposati. I fan ora sperano di vederli uniti in matrimonio anche al di fuori del contesto del reality. Heidi aveva lasciato il Grande Fratello Italiano il 17 ottobre. Con la produzione che aveva comunicato la sua decisione di abbandonare la casa per «motivi personali». Successivamente, è entrata a far parte del cast del Big Brother. Questo matrimonio a sorpresa rappresenta un lieto epilogo per la storia di Heidi e Romeo. Dimostrando che l'amore può superare le difficoltà e sorprendere quando meno ci si aspetta. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.